Quando l'agricoltura smuove passione, sicuramente si fa sentire. E' questo il bilancio della 62esima giornata del ringraziamento, tenutasi domenica 18 novembre a Verola Nuova. La festa, ormai promossa da molti anni sul territorio nazionale da Coldiretti, ha visto arrivare sul suolo di Piazza Libertà molteplici mezzi agricoli, guidati da diversi agricoltori appassionati del loro mestiere. Padre Santo, da te discende la pienezza di ogni benedizione, attessare la voce del popolo che benedice il tuo nome, nella tua benevolenza proteggi i lavoratori e i loro strumenti di lavoro. Let's get some